Ancora povera, ovviamente sono ancora una nubba perché non ho i robux, dai scherzavo raga, ce li ho i robux, adesso mi metterò il mio vero avatar, me lo son fatta, eccomi qui, ok c'ho anche il premium, prendiamo, ok mi son pure fatta una casa premium, eccola qui. La mia bellissima casa, qui ci sono io, ok oggi visiteremo un po' di case, allora un po' di cose che si possono fare col premium, perché ho questo regalo di Natale, qui a fianco c'è anche mia sorella, saluto. Ciao! Ok, adesso guardiamo, allora iniziamo dal alto, 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 altissimo al bassissimo, schississimo. Allora andiamo per prima nella prima stanza, vabbè qui c'è la camera dove si può vestire, qui invece c'è la banca, ok, qui invece c'è il bagno, ok, qui invece c'è il di fuori. Poi qui c'è la camera da letto, ok, adesso questa qui sarà un'altra camera, vabbè questo qui sarà il salotto, tipo un salotto dove si mangia la cucina. Ecco la cucina, salotto, cucina, io mi contando. Vabbè, qui adesso si potrebbe cucinare. Ok, qui dove ci sono i regali, prendo il regalo che avevo già preso, ok. Adesso scendo di sotto, qui c'è il bagno, qui c'è il garage, che tra un po' metterò la mia limousine, qui c'è, vabbè, qui c'è la camera da letto, che c'è un bagno, penso che ve l'avevo già fatto vedere. Ok, adesso vi farò vedere il di fuori. Dovrò per forza uscire dalla finestra. Ok, qui posso pure mettere la piscina. Dovrò che si poteva mettere la cucina. Scusa, Elle, dove si poteva la cucina? Cioè, perché ho detto cucina? La piscina. La piscina. Ok, qui adesso ho messo la piscina. Ok, questo qui è tutto. Allora, chiudiamo. La sorella adesso si sta facendo l'avatar. Ok, raga, adesso vi farò vedere un po' gli avatar che potevo fare. Perché ho chiudito la finestra. Ok, adesso vado subito. Ok, qui c'erano le maglie che avevo comprato. Avevo comprato questa che ho addosso adesso. Poi questa. E quest'altra. Adesso vorrei vedere cosa ci sta più a bene con questo. Vabbè, quest'avatar l'ho già fatto con i pantaloni, giustissimo. Questo qui vorrei dire con quali pantaloni vada bene. Ehm, pantaloni classici. Ehm, poi adesso... Qui ci sono tutti i pantaloni che ho comprato. Vediamo se questo ci starebbe insieme. Questo e questo. Mmm... Questo qui sarebbe carino. Ok, adesso andiamo su maglie. Classiche. Ah, questo qui è maglietto. Ma doveva essere camicia. Ehm, poi guardiamo cosa ci starebbe bene con questo. Ok, andiamo su pantaloni classici. Secondo me ci starebbe bene o questo, o questo. Se non mi potevo togliere anche la maglia. E mi mettevo tutto questo completino. Adesso mi provo a togliere la maglia. Guardate. Toggo la maglia. Cos'è per via la maglia. E qui c'ho tutto il completino. Adesso vorrei vedere che... Cappelli ci sono. Che forse ne compro un paio. Perché a cui ce ne sono dei bellissimi. No, vabbè. Lo amo. Solo che costo 25. Le orecchie che ho già. Che hanno addosso. Guardate. Secondo me sarebbero carine. Questa faccia. Però c'è anche questa che era carina. Guardate. Ok. E un po' più giù. Vabbè. Non so se è qui. Ma... Guardiamo. Guardiamo che... No. Non c'è. Allora. Andiamo su testa. Vediamo un po'. Questo qui. Sarebbe bellissimo. Che bello. Stavo scorrendo. Stavo scorrendo. Stavo scorrendo. Ho visto questa faccia. Ma io pensavo che era una faccia da nub. Vabbè. Non una che costava i robux. Vabbè. Cosa qui sono? I capelli di Enid. Carini. Ok. Guarda un po' di capelli. Però adesso no. Direi di andare subito nel gioco. Annulliamo. Nulla. Vero. Non posso far così. Perché devo fare così. Adesso vado su Roblox. Cioè vado su Brookhaven. Non su Roblox. Perché tanto sono già su Roblox. Ehm. Ok. Adesso entriamo. Aspetta. Raga. Io mi sto chiedendo. Se c'è ancora l'avatar quello che ho scelto. Allora. Allora. Secondo me. C'ho. Lo sapevo. Lo sapevo che c'avevo quello che ho scelto. Però adesso subito non ce l'avrò di nuovo. Perché c'avevo quello di prima. Però non l'avrò tanto. Lo sapevo. Ok. Però io preferisco. Lo stito quello che ho. Prima. Ok. Adesso. Prendo il mio. Cosa. Vabbè. Mi sono già scordato il nome. Qui c'è un mercoledì. Sono col tiktok. Ok. Ok. Adesso andiamo. In un'altra casa. Che adesso guarderemo un'altra casetta. Perché ce ne sono bellissime. Comunque i robux. Ma me l'avevo. Cioè. L'avevo avuta per regalo di Natale. Ok. L'hanno già presa la casa. Ritorniamo indietro. E mi butto direttamente. Ok. Adesso una cosa. Bellina. Con i robux. Vabbè. Prendiamoci una casa direttamente. Prendiamo. Un passo. A vedere cosa si può fare con i robux. Perché è la prima volta che ho i robux. Oggi e ieri. Ok. Mi sono messa questa casa. Aspettate. La voglio un attimo ospitare. Ehm. Perché questa. Non ce l'avevo per. Mai. Soltanto a volte perché. Quando mi adottavano le persone. Dopo. A volte ce l'ha. Si è mostro da sola. Vabbè. Ehm. Adesso riusciamo. Ok. Sono arrivata. Mmm. Perché sono venuta qui? Cioè. Non ho capito per quale motivo. Aspetta mia sorella. Ma non è mia sorella. Perché pensavo che voleva fare uno scherzo. Tipo dire. Emma. Sono bella. E poi alla fine. Loro diranno. Di sicuro di no. Poi si trasforma nel suo avatar. Fero che. Lei è bellissima. Perché anche lei si è fatto un avatar. Ok. Siamo riandati al centro. E' ritornata mia sorella. Ok. Quindi. E' lei l'ha utile con i capelli. Mmm. Praticamente ricopiato l'avatar. È bello il mio avatar. Grazie. Perché è bello. Perché è bello. Giugia ti sento. Ok. Mi ha sentito. Cosa? Mmm. Vediamo se possiamo. Se possiamo comprare qualcos'altro. No. Io volevo assolutamente questo. Mua. Però. Non lo potrei avere. Mmm. Mmm. Non saprei cosa fare. Però. 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 Allora. Ehm. Di dentro. Qui. La prima casa. Di sopra. Ehm. lì ce ne sono anche quelle con il premium e vorrei andarle ad ospitare morale alla fine stavo guardando ma no non erano quelli del premium che ho io quelli con la stella ma erano quelli con diamante quindi penso che qui non ci sarebbero case che costa il premium allora entro dentro qui ok spero questo video vi sia piaciuto mettete un mi piace all'insù iscrivetevi al canale ciao